amici di italiano per tutti una lezione finalmente una lezione sulla cucina questa lezione è la perfetta continuazione di una lezione precedente che abbiamo svolto alcune settimane fa ed era la lezione sulla pasta sulla pasta italiana e vi avevo promesso in quella lezione che era la numero 269 e di punto qui la lezione sulla pasta italiana vi avevo promesso che avremmo affrontato di nuovo il discorso della pasta perché abbiamo parlato nella nella lezione solo della pasta semplice e non della pasta ripiena quello che è diciamo conosciuto ad esempio ce ne sono molti altri tipi come l'agnolotto italiano ovviamente ci sono tanti altri tipi che andremo a vedere però solo per darvi un'idea è una lezione molto pericolosa come dico sempre perché se ascoltate questa lezione e siete prima del pranzo prima della cena in questo momento sto registrando poco prima della cena è difficile perché stimola l'appetito e tutti i piatti che vedrete stimolano molto l'appetito quindi attenzione fate attenzione andiamo subito alla prima slide la pasta ripiena italiana oltre che per la pasta secca e fresca l'italia è famosa anche per la pasta ripiena eccone un esempio qui sopra la pasta ripiena è un tipo di pasta formata da due sfoglie di pasta fresca di solito all'uovo che vengono farcite con un ripieno a base di carne pesce verdura formaggio o altri ingredienti e poi tagliate ovviamente le due le due sfoglie di pasta tagliate in piccole porzioni dalla forma caratteristica quindi due sfoglie una sull'altra di pasta con un ripieno al centro sembra che la pasta ripiena abbia avuto origine in età medievale e rinascimentale nelle regioni dell'italia del nord in particolare nell'area della pianura padana vediamo quali sono i tipi di pasta ripiena più conosciuti più noti quindi abbiamo visto un'introduzione adesso vediamo tutti tutti molti ce ne sarebbero molti di più probabilmente bisognerebbe stare qui a parlare fare lezioni lezioni su tutti i tipi di pasta ripiena però elenchiamo diciamo i più noti se non comunque più più conosciuti e i più più buoni forse allora gli agnolotti gli agnolotti sono per eccellenza diciamo il piatto di pasta ripiena anche forse i più buoni ma non solo gli agnolotti sono di forma quadrata sono fatti con pasta fresca all'uovo e ripieno a base di carne solo carne ci sono due varianti gli agnolotti piemontesi per il cui ripieno si usa la carne arrosto quindi l'arrosto e gli agnolotti pavesi della dell'area i primi sono del piemonte in generale e i secondi pavesi sono della della provincia della zona di pavia pavesi per i quali invece si usa la carne stufata lo stufato entrambi possono essere conditi con sugo di carne oppure serviti in brodo quindi l'interno il corpo il ripieno è carne o arrosto o stufato più l'esterno vengono conditi con il sugo di carne fatti in asciutto o fatti in brodo poi abbiamo gli anolini anolini pasta all'uovo ripiena di carne di manzo pane secco grattugiato e formaggio parmigiano di forma rotonda sono destinati alla preparazione in brodo sono tipici delle zone di piacenza e parma i barbagioai tipici della liguria sono triangoli di pasta fresca ripieni di zucca e brusso il brusso è un formaggio molto saporito prodotto nella zona di imperia si friggono e si servono come antipasto la pasta la consideriamo sempre il primo per eccellenza non è detto si può usare in diversi modi e questo di barbagioai è un modo e cioè dare alla pasta un gusto per servirla come antipasto e non come primo e questi ovviamente sono leggermente croccanti sono leggermente dolci hanno un buon sapore bisognerebbe provarli tutti però ovviamente questo è solo un elenco i cappelletti pasta tipica dell'emilia romagna delle marche e dell'umbria deve il suo nome alla tipica forma simile a quella di un cappello e li vedete tutti in fila qui la pasta all'uovo è farcita con un ripieno a base di carne pollo maiale e vitello formaggio parmigiano uovo e noce moscata si servono in brodo poi abbiamo i cappellacci di zucca tipici della zona di ferrara hanno una forma simile a quella dei cappelletti ma più grande e grossolana la pasta all'uovo ha un ripieno a base di zucca formaggio grana e noce moscata si condiscono con un burro fuso salvia e formaggio grattugiato i canzoncelli sono pasta fresca all'uovo con un ripieno a base di carne pane secco prezzemolo grana padano e altri ingredienti la forma è a fagotto o a mezzaluna sono tipici della zona di bergamo e brescia poi abbiamo i charsons che è un piatto tipico del friuli venezia giulia la pasta fresca di farina di grano tenero o di patate è farcita con un ripieno di ingredienti dolci e salati che a seconda della ricetta possono essere uvetta cioccolato marmellata biscotti spinaci erba cipollina ricotta e uova immaginate che piatti che non siamo abituati perché poi la regione come dico sempre da regione a regione in italia ogni diciamo territorio al proprio gusto a proprio tipico modo di cucinare in questo caso qui abbiamo la pasta associata all'uvetta al cioccolato alla marmellata tipica delle regioni del nord ovviamente di provenienza piuttosto germanica ecco come stile di cibo poi abbiamo i culur jones di piatto tipico della sardegna sono fagottini di pasta fresca di semola di grano duro con un ripieno a base di patate e formaggio pecorino o caprino le varianti locali prevedono l'aggiunta di altri ingredienti poi ognuna di queste ricette questi qui sono diciamo il le ricette madri in qualche modo i piatti principali poi in ogni regione questo questo piatto può essere variato a seconda di zona quindi in ogni paese in ogni località o in ogni provincia della regione avrà magari una sua tendenza con un certo ingrediente perché in quella zona nasce in prevalenza o perché c'è un gusto diverso c'è una una tradizione di utilizzare magari qualche ingrediente diverso i gattafi sono fagottini di pasta all'uovo salata a forma di mezzaluna con un ripieno di bietole pangrattato uova e parmigiano si preparano fritti piatto tipico della liguria i marubini anelli di pasta all'uovo con un ripieno a base di carne di manzo tipici della zona di cremona si preparano in brodo i ravioli ecco direi che in insieme in termini di notorietà insieme agli agnolotti ci sono i ravioli infatti vedete che andremo a toccare molte regioni anche in questo caso perché sono abbastanza sparsi un po ricette e modi di cucinarli diversi e diverse regioni dell'italia i ravioli sono quadrati di pasta all'uovo con un ripieno che varia a seconda delle ricette regionali in piemonte è tradizione prepararli con un ripieno di manzo e salsiccia e servirli con vino rosso in romagna marche toscana e lazio si farciscono con spinaci e ricotta in abruzzo esiste una versione dolce a base di ricotta zucchero e cannella da servire con sugo di pomodoro il molise ha una sua ricetta a base di carne spezie formaggio e i ravioli capresi quindi di capri campagna hanno l'impasto senza uova e sono ripieni di cacciotta e maggiorana in sicilia pantelleria i ravioli amari sono ripieni di ricotta e menta e si condiscono con un sugo di carne i pansotti o anche pansotti ogni tanto si sente nominare il piatto è lo stesso tipici della liguria sono ravioli grandi triangolari ripieni di erbette e conditi con salsa alle noci i panzerotti tipici del veneto e della riviera adriatica sono fagottini di pasta fresca a forma di mezzaluna con un ripieno di solito a base di verdure o formaggio poi abbiamo i plin che sono tipici del piemonte sono un tipo di agnolotti di piccole dimensioni agnolottini chiamiamolo così con un ripieno a base di carne arrosto e un involucro di pasta all'uovo molto sottile si servono con il succo di carne buonissime anche questi allora tutti i piatti sono buoni però ognuno via ovviamente le sue preferenze se devo dare le preferenze a tutti quelle che abbiamo visto fino adesso io direi gli agnolotti ravioli e i plin che sono più piccoli sono più buoni da gustare in qualche modo però tanto di cappello a tutti questi piatti schluss grafen sono tipici del trentino alto adige a forma di mezzaluna sono fagottini di pasta all'uovo preparata con farina di segale e frumento il ripieno contiene spinaci cipolle ricotta parmigiano e aromi i tordelli piatto tipico della città di lucca sono a base di pasta all'uovo di pane toscano secco ripiena di pane toscano secco carne mista macinata e aromi hanno forma forma semicircolare e sono di grandi dimensioni ecco ci sono alcuni di questi che vengono serviti in alcuni ristoranti che sono tanto grandi come in questo caso i tordelli che alle volte il ristorante ne serve tre quattro e non di più altri come i plin che sono molto piccoli che magari se ne hanno 15 20 dipende dalla grandezza del piatto dell'abbondanza ovviamente del ristorante però hanno vedete il numero è completamente diverso tra un piatto tra un piatto tra una forma tra una dimensione e l'altra i tortelloni sono molto diffusi in italia settentrionale sono involti di pasta all'uovo grandi e rotondi con un ripieno a base di verdura e ricotta faccio fatica perché dopo tutti questi piatti si fa fatica a continuare una lezione poi abbiamo i tortelli non i tordelli ma i tortelli che sono diffusi in lombardia emilia romagna e toscana sono a base di pasta all'uovo la forma e il ripieno di solito a base vegetale variano a seconda delle zone a piacenza si preparano con ricotta spinaci e grana padano a crema si preparano con un ripieno dolce fatto con amaretti uvetta canditi e vino marsala tipici di mantova sono i tortelli di zucca di forma quadrata ripieni di zucca mostarda amaretti e grana padano in toscana si preparano i tortelli di patate da condire con ragù di carne e poi abbiamo i tortellini tipici di modena e bologna hanno un ripieno di carne di maiale prosciutto mortadella e parmigiano si servono in brodo la forma quella tipica del fagotto fagottino arrotolato anche questi anche i tortelli sono buoni ma poi non ho delle preferenze ma solo probabilmente una preferenza perché ho sono stato magari abituato a mangiare più un tipo che un altro ma sono ovviamente tutti eccezionali gli agnolini non gli annulini ma gli agnolini in questo caso con le mie tipici di mantova sono simili ai tortellini ma il ripieno contiene carne di manzo e di maiale pancetta e pangrattato i tour ten in val pusteria si preparano questi tortelli fritti ripieni di speck verza e alloro penso che questa qui sia l'ultima vedete che poi alla fine poi il contenuto di questi più o meno è sempre lo stesso carne prosciutti verdure ce ne sono certi che sono hanno delle ricette ben specifiche però in generale la carne la pasta ripiena è più o meno diciamo la ricetta in generale è più o meno la stessa poi vi garantisco che ogni regione d'italia ogni pasta ogni acqua ogni ripieno ogni verdura ogni formaggio è diverso quindi i gusti variano tantissimo e mangiare una cosa che sembra che la ricetta sia la stessa in una regione mangiarla in un'altra regione la il gusto cambia bisognerebbe mangiare i prodotti effettivamente nella regione dalla quale provengono per avere diciamo l'eccellenza della qualità in qualche modo ma anche del gusto vi consiglio se vi fate un giro per l'italia di andare di fare di girare un po per regione per regione di andare a assaggiare i piatti tipici della pasta come abbiamo visto nella lezione 269 ma anche ovviamente delle paste ripiene che sono straordinari a questo punto io devo andare a cenare perché dopo aver fatto questa lista ho lo stomaco che brontola e quindi faccio fatica quasi anche salutarvi però comunque come sempre vi dico un seguimi e like sul sul gruppo sul sul canale sulla lezione non sul gruppo sulla lezione che abbiamo che avete appena sentito spero che la lezione vi sia piaciuta andatevi a riascoltare più dettagli in modo più dettagliato la lezione sulla pasta perché parlavamo proprio di come si realizza la pasta vi consiglio di andare a vedere in questo periodo perché abbiamo aggiornato alcune sezioni del blog ita per tutti punto blog spot.com ci sono aggiornati tutti i test e di verifica finale di tutte le regioni d'italia quindi potrete cimentarvi nelle capacità di ascolto delle lezioni che avevo fatto e provare a rispondere ai questionari quindi è un esercizio per per comprendere e per leggere i questionari e per rispondere alle domande siamo su tutti i social come dico sempre ci sono 276 lezioni prima di questa come dico sempre vi ringrazio vi ringrazio e vi ringrazio per la vostra per il vostro affetto per la vostra partecipazione per tutti i commenti che mi mandate tutte le settimane cerchiamo di lavorare e di procedere con sempre con nuove richieste che continuano arrivare con nuove lezioni ci vediamo nella prossima lezione di italiano per tutti ciao